Buongiorno da BTV News. Oggi, 12 maggio, è Santi Nereo e Achilleo. Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. L'International Council of Gnosis ricorda questa data celebrando in tutto il mondo la giornata internazionale dell'infermiere. Il 12 maggio è così diventata l'occasione per far sì che la professione infermieristica parli un po' di sé, con i ricoverati negli ospedali, con gli utenti dei servizi territoriali, con gli anziani, con gli altri professionisti della sanità, con i giovani che devono scegliere un lavoro, con tutti coloro insomma che nel corso della propria vita hanno incontrato o incontreranno un'infermiere.